Ci troviamo all'autodromo di Monza in occasione dell'ottava edizione della Mini Challenge. 8 team, 26 partecipanti e 22 vetture gareggianti. Conosciamola meglio però in compagnia di Stefano Ronzoni, direttore Mini Italia. Buongiorno a tutti. Sì, è in realtà una storia che parte da molto lontano perché sono ormai 60 anni che John Cooper si è deciso che la Mini sarebbe stata una macchina adatta alle competizioni. Da lì in realtà la storia si è evoluta, ha cominciato con il Rally di Monte Carlo, poi è passato al World Rally Championship, poi alla Dakar e in realtà stiamo entrando nell'ottavo anno del Mini Challenge. È per noi un momento molto importante perché partendo da una macchina eccezionale che è la Mini John Cooper Works, quindi partendo da una macchina che tutti possono trovare e provare in concessionaria, abbiamo sviluppato un campionato che porta il go-kart all'estrema potenza. Quindi partiamo da una macchina che garantisce prestazioni, che garantisce potenza, aggiungiamo chiaramente la sfida e la passione delle persone e arriviamo al coinvolgimento e all'esperienza. Un'esperienza che può essere vissuta sia correndo nel campionato che venendoci a trovare, quindi vedendo il campionato o fisicamente oppure avendo la possibilità di vederlo sul canale di Play oppure sul nostro canale Facebook oppure sul sito di Mini.it. Dicevi giustamente un campionato che sta crescendo in termini numeri, abbiamo 22 macchine che corrono quest'anno in due categorie diverse, il Challenge Pro dove ci sono 265 cavalli e il Challenge Light dove ne abbiamo 231. In entrambi i casi abbiamo un kit racing che garantisce le prestazioni ma anche la sicurezza. I costi del campionato sono assolutamente abbordabili, li abbiamo pensati apposta per avvicinare le persone alle competizioni e al nostro mondo. Parliamo di 48 mila euro nella categoria Challenge Pro e invece di circa 40 mila euro nella categoria Challenge Light. Ovviamente bisogna aggiungere i costi di iscrizione al campionato, alla gara e alle manifestazioni. Parliamo di esperienza, un'esperienza che non vivono solo i piloti ma che possono vivere proprio praticamente anche le persone che ci vengono a trovare perché sia sabato che domenica c'è la possibilità di provare le macchine e di provarle in maniera diversa rispetto all'anno scorso. Perché quest'anno abbiamo sviluppato un vero e proprio concept che spiega la macchina con delle sessioni teoriche ma poi la fa provare con dei piloti professionisti, quelli di Promodrai, in quattro esercizi. Quindi abbiamo la frenata, lo skid, l'evitamento ostacolo e lo slalom. Quindi abbiamo la possibilità di far provare a tutti coloro che lo vogliono la macchina davvero portata all'estremo con qualche anche suggerimento di guida sicura. Tutti quelli che la vogliono provare possono interessarsi presso i nostri concessionari oppure iscriversi sulla nostra piattaforma che è MiniRepublic.